Una seconda riunione al Comune di Casamicciola per parlare della situazione Eav. Che cosa si è detto? In proseguo alla prima riunione che abbiamo tenuto qui c'è stata questa seconda riunione che secondo me ha dato esito positivo nel senso che il programma che ci siamo dati nella prima riunione si sta affrontando. Ci sono già stati dei primi segnali di impegno da parte dell'azienda per portare dei mezzi più efficienti e più capienti sul territorio e è stata affrontata anche con alcuni dirigenti delle scuole alcune problematiche inerente ai propri servizi scolastici e quindi diciamo che qualche piccolo passo avanti è stato fatto. Adesso aspettiamo il terzo incontro che dovrebbe avvenire nel mese di novembre per poi giungere a un quarto incontro nel mese di dicembre con il quale dovremo aver concluso la prima fase degli impegni assunti dall'azienda. Vale a dire quello di potenziare ulteriormente la flotta di automezzi che devono essere utilizzati sul territorio e quindi aspettiamo questi ulteriori due incontri che saranno come dicevo prima nel mese di novembre e nel mese di dicembre. Per il momento siamo soddisfatti, almeno personalmente sono soddisfatti perché c'è l'impegno da parte dell'azienda, ho visto la disponibilità e qualche piccolo risultato già si sta avvenendo. Abbiamo discusso anche di come migliorare la comunicazione per i clienti turisti e per gli utenti isolani, si è pensato anche a una corsa notturna da dedicare per le problematiche dei ragazzi che escono il sabato sera, quindi individuare una fascia orario nelle prime ore della domenica mattina, quindi intorno alle due e mezza a tre, proprio per garantire a tanti giovani che escono per uscire con gli amici, andare in discoteca o andare al cinema, di poter avere un rientro sicuro con un pullman. Anche questo mi sembra un'ottima iniziativa. Per quanto riguarda i ragazzi che vanno al nautico di Via Pontano? Sì, per quanto riguarda questa serie di staccate del nautico sul comune di Ischia, il nostro sindaco Giovanni Castagna, che è anche docente dell'istituto, ha posto la questione. I vertici locali dell'azienda si sono presi quest'impegno di trovare una soluzione, probabilmente utilizzando una navetta che possa consentire il raggiungimento in tempi utili per poter entrare.